Cari lettori, sono lieta di informavi che il libro Paesaggio con mano invisibile, il romanzo dello scrittore statunitense Matthew Tobin Anderson, è diventato un film. Metro Goldwyn Mayer, compagnia di produzione cinematografica statunitense, ha rilasciato il trailer, dell'adattamento cinematografico di fantascienza, in cui due ragazzi escogitano un piano rischioso per garantire il futuro delle loro famiglie. Il film Landscape with Invisible End si inserisce nel panorama televisivo come un'opera ricca di suspense, emozioni e misteri intricati. La trama affronta temi universali come l'amore, la perdita, l'identità e la ricerca di se stessi, mentre esplora i legami familiari e le relazioni interpersonali complesse. Il regista Corey Finley ci porta in un futuro in cui la Terra è sotto l'occupazione benevola di una specie aliena chiamata Vub. Nonostante la promessa iniziale di prosperità globale grazie alla loro avanzata tecnologia, la maggior parte dei lavori umani diventa obsoleta, lasciando le famiglie nell'impoverimento e senza prospettive. Il protagonista del film è Adam Campbell, interpretato da Zante Black, un talentuoso artista di 17 anni. Insieme alla sua nuova fidanzata Chloe Marsh, interpretata da Kylie Rogers, scopre che i Vub sono affascinati dall'amore umano e sono disposti a pagare per osservarlo. Adam e Chloe decidono così di trasmettere in diretta la loro storia d'amore nascente per guadagnare denaro extra per se stessi e le loro famiglie. La vita sembra andare bene per un po', ma la fiamma del loro amore adolescenziale svanisce e sono costretti a fare sacrifici stravaganti e dirompenti per le loro famiglie. Il film offre una riflessione intelligente sul capitalismo e sull'arte, mettendo in luce come spesso siamo disposti a sacrificare la nostra integrità pur di guadagnare denaro e perseguire il sogno di una vita migliore. Landscape with Invisible End è una pellicola coinvolgente che mescola abilmente la fantascienza con una critica sociale affilata. Il regista Corey Finley, con la sua maestria narrativa e la sua capacità di cogliere le sfumature umane, riesce a trasportarci in un futuro distopico in cui l'amore, l'arte e l'integrità vengono messi alla prova. Presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2023, ha già attirato l'attenzione della critica e del pubblico e sarà rilasciato nei cinema a partire dal 18 agosto 2023. Di seguito la trama del libro. Ci sono sistemi ben più sottili ed efficaci della forza per piegare un popolo alla schiavitù. Lo sanno bene i VUV, che al loro atterraggio non hanno spianato sui terrestri fucili e cannoni, anzi, hanno distribuito gratuitamente meraviglie, farmaci che tutto curano, fonti di energie inesauribili, cibi perfetti che in un batter di ciglia debellano la fame nel mondo. Prodotti rivoluzionari e irresistibili, insomma di cui loro possiedono il monopolio, e di cui, ovviamente, si precipitano a fissare il prezzo. I VUV non sono soldati, insomma, ma affaristi, e il loro arrivo stravolge l'economia, brucia milioni di posti di lavoro, mette la terra in ginocchio. Ad Adam, 17 anni, non resta che inventarsi un lavoro, qualsiasi cosa pur di portare a casa quello stipendio che i genitori non riescono più a racimolare. La soluzione più felice mette insieme piacere e dovere, perché i VUV mostrano una sciocca ossessione per il mondo patinato del passato, e così Adam e la sua ragazza Chloe iniziano a registrare i loro appuntamenti in posticcio stile anni 50 per poi rivenderli agli invasori su un canale pay per view. Tutto funziona a meraviglia, fino a quando nell'idilio d'amore si spalancano crepe sempre più profonde, e Adam si ritrova costretto a chiedersi a quanto è disposto a rinunciare di se stesso pur di accontentare i VUV. Grazie per l'attenzione, un caro saluto. Se sei un appassionato di adattamenti cinematografici tratti da libri, ti invito gentilmente ad iscriverti al canale per non perdere nessuna novità e offrirti sempre nuovi spunti e consigli interessanti sul fantastico mondo dei libri. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza.